Alcuni commercianti non rispondono e si dimostrano perplessi, altri invece stanno pensando alla possibile soluzione. Il tema in questione è la decisione dell'amministrazione di Lecce nel rimuovere le insegne dei negozi del centro storico, che in base al piano del colore e dell'arredo deturperebbero l'immagine barocca della città. Due le soluzioni, la rimozione dell'insegna o il pagamento di una sanatoria di 516 euro, assieme all'obbligo di presentare un progetto per l'adeguamento, secondo quanto chiede l'aderibile del Consiglio Comunale 89 del 2005. La crociata contro le insegne è iniziata dalla denuncia di un'associazione di categoria che ha segnalato al Comune delle insegne non in regola. Da qui poi il censimento da parte del Comando di Polizia. Intanto crescono tra i commercianti i malumori, verso quella che ritengono una multa ingiusta e che servirebbe al Comune solo per far cassa.